Già eravamo tutti sardi nel THC, Pint è sardo, Graff è sardo, Aoi è sardo, e arrivava l'altra persona che facevano sta roba qua. Come l'ho preso io, l'abbiamo sempre avuta dentro, anche prima del nome, il pop, siamo cresciuti con balli in piazza, con murales, con sfide in rima, battolinas, arrepentinas. Un DJ per me non è niente altro che un fisarmonicista, o uno che suona Rinaun Eddas che fa lo scratch, fa i suoi giri mentali. Graff. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.